La maschina, Luca Russo, di no mentoni, gli ha menato l'occhio a Navagnone di fuori paese. Maria si chiamava, e se decise, bacia a casa sua con le manda. Ci occunta prima la mamma, però, per educazione, e ne disse, «Figlia te voglio, ma giù un caponuto della figlia tua e voglio con me la sposo». Ma la mamma della Maria ne rispose, «Beggio, giovane, non ti conviene che te la sposi la figlia mia, che è te meschina?». «C'è bene a dire», domandava Luca Russo, «che non sapeva far niente, figlio mio. Guarda che te trovi in tutto, che te la sposi. Non ti voglio bene, che io ne voglio bene lo stesso. Chiano piano si impara, no?». «Guarda che è molto meschina», disse intorno alla mamma. «E io ne voglio bene lo stesso», tornavo a ripetere l'untoni. Insomma, alla fine dei riconti, l'untoni si era proprio un caponuto della Maria, e se la pigliavo. Si è scusata in grazia di Dio, la sera si colcara e la mattina lo ci scivo. Ida si fice gli capigli, si lavava la faccia e si assettava al reto la porta, fu guarda da fuori la gente che ci avvenia. Ma non gli stava detto, non scopava in terra e non lavava, non faceva niente, insomma. L'untoni intanto gli ha guardato lo ciuccio, gli ha montato il suso e gli ha piato lasciata come bacia fuori e fatia. Allora più tardi, la mamma dell'untoni ci ubica a questa faccia la nora, e vitte che stia già insettata innanzi la porta, e non stasse preoccupava manco con la cucina per lo marito. Lo figlio mio diceva, ma quando vienete fuori, come faccia se non c'ho qualche cosa che è cucinato? Quando vitte che la nora non si risolvia proprio con la cucina, si è fice. No, su casa, fice le sagne, le cucinavo, le cunzavo con lo sugo buono e buono. La grattata del caso, le mise in cianno piatto, le angucciavo e le portavo alla Maria. Riavo, fuggiavo lo piatto su sulla banca, e poi pigliavo la via, che se non torna a casa. A mezzadì riavo l'untoni dell'apatia, e non si chiesa a casa, scaricavo lo ciuccio come del solito. La Maria, però, stia sempre insettata innanzi la porta, e non si chiesa manco quando vitte le cani chiesire in su casa, che assartavo su sulla banca, e senza fuggiavo le sagne con tutto il cuore. I dammovi di a Lucane che si mangiava le sagne, ma non si risolvia proprio queste azze. A Lucane però ne faceva, zà, zà, che su signora non mi posso zà, ma Lucane manco per la capo. Zà, zà, che l'hanno vestito che ha fatto la signora, zà, zà, che su signora non mi posso zà. Ma Lucane si era legato tutto lo piatto ormai. E a Drega tra si riavo l'untoni e ci ho vitte due piatto su sulla banca, bello pulizzato del Lucane, e la Maria, settata che ha chiamato. Bè, disse, e c'è cosa ed è qua? No, la mamma tua mi ha portato un piatto di sagne, ma hai ciasuto Lucane e se l'hai mangiata. Io però ne ho fatto, zà, zà, che su signora non mi posso zà, ma Ido, se l'hai mangiata lo stesso. Va bene, disse Ido, non devi chiedere bene. Lo cristiano molo tenia la fame, ma se racimolava uno stozzo di pane, escevo se lo mangia a re del caso, solo su un grazie di Dio. E la Maria? E pure Ida mo la tenia fame, ma non c'era niente se lo mangia. E dice a Incio d'Ida, ah, quai, sorta mia non si mangia, sorta mia. Ma noi da manco che se zàva, aspettava mo che lo marito ne portare con mangia. All'ucrae, la Maria se zàva, se lavavo la faccia, se fece ricapilli, esce se setta intorno a re della porta, sempre mo che guarda la gente che ci avvenia. La sogra, pure stafiata, quando vitte la nora che stia sempre setta senza pazzagniezi, le portava intorno al nuovo piatto di sagne. E se ne tornava a casa. Ma all'ucchio tardo, ecco che facciase di nuovo lo cane. Sale su sulla banca, e mentre che se inghiottia le sagne, la Maria ne faceva. Zà, zà, che su signora non mi posso zà, ma lo cane manco per la causa, eh? Zà, zà, lambesti che faccio la signora. Zà, zà, che su signora non mi posso zà. E lo frattempo riavo lo marito, lo stesso capiato. Lo cristiano? Se giustavano poco di pane, e se lo mangiavo sull'usurlo, grazie di Dio. E io da mochina di chianti, è morta di fame. Allo terzo giorno, la sogra, sapendo come c'erano le cose, ne portavo le sagne, ma aspettavo che torna lo figlio sotto, l'apatia, e che se setta in tavola, che se no, a parere, se li ha mangiato intorno allo cane. Da sotto lo marito, la Maria, quando vitte lo piatto su sulla banca, se setta in tavola, e semenavo con mangio per la fame. Ma io appena assaggiato lo primucone, che lo marito ne disse, alto! Per cene, disse Ida, che io sto a moro di fanno, quante servizi hai fatto oggi? No, ma giù lavata la faccia, e ma giù fatti li capiti. E per quello che hai fatto ti abbastano conne solamente, disse Ida. Uuuu, sorta mia, dice la Maria inciadeita. Ma allo quarto giorno, la Maria sezzavo, depressa, se lavavo, se fece li capiti, e poi scopavo casa e giustavo l'oglietto. Vedendo questo, la sovra ne siò, nanzi lo figlio, e ne disse, guarda cos'è, mogliereta, se sei con portabona. Prima hai scopato casa, poi hai giustato l'oglietto, e sei settata a reto la porta solamente quando hai spicciato. Quando l'Antoni riesi a casa, trovavo su sulla banca lo piatto della mamma sua e si è miso a mangiare, paro come mogliera sa. La Maria, che appena ha provato ciocone, quando torna marito sa, alto! Per sceme, che sta moro di fame! Quanti servizi hai fatto oggi? Ma ci ho fatto li capiti, oggi ho scopato un terra e oggi ho giustato l'oglietto. E allora ti bastano cecuni, ed oggi, nanzi, quanti servizi facci? Tanti cuni ti mangi. Per tenerlo conto, per ogni servizia che facci, vinti nella pagliuzza su sulla seggia che sta a reto la porta, così, quando torno, mesuro le servizie. Allora, il quinto giorno, la Maria, ormai, non vedeva più per la fame. Se già presto sta fiata, senza manco se faccia le capite e si è cauffare del ramoto in giù casa, sai? Poi mise la pignata a nanzi lo fuoco e, come cia cia, fiatava con una sestuta, da bere la pignata di basulico se binchiano. E la sogra intorno ne si è un anzio e lo figlio so con i dica. Ah, oggi è questa setà, è proprio di fare la Maria, sai? La fame è la riata. A mezzatìa, ecco l'Untone con l'ucciuccio. E non vuoi che l'ucciuccio ci va a mente la capo in tua casa e se mangiavo le pagliuzze che la Maria gli era a cotto su sulla seggia? E la Maria chianti, chianti, non spicciava più da chianti, sai? Untone le disse allora, Maria, com'era che sta a chianti? Uuu, sorda mia, ma qua ci mangio, sta a moro di fame, che io mi ha messo di fare tre pagliuzze e il moro giuccio se l'hai mangiato. Va bene, va bene, qua ci mangi, disse l'Untone. Allora, mi lasciarono lì qua solo in tavola, se settarono e mangiarono, grazie di Dio. Il rumore ritirò sotto la musica. Chiano piano, insomma, la Maria imparò la cucina. La mamma della Maria, ma non vedi allora fuori paese che baciò alla figlia sposata. Esciò di domenica, alle quindici giorni, e la chiamava questa temperata farina con falsa sagne. Come stai? Come non stai? Poi la mamma si assaltava la seggia. E poi, che la Maria, a un certo momento, che non la vedia nessuno, mentre faceva sagne, si cava a fare segno con l'occhio alla mamma sua. Psss, psss, ne faceva. Ma la mamma non capia. La figlia intorno ne faceva segno. Psss, psss. A questo punto, la mamma sezzava, se non c'era un anzi la figlia, ne disse, citto, citto. Ma ci chiede che vuoi, figlia mia, se può capire. E la figlia, scuso, scuso, mamma, non stai rispettata, sai? Cerca tutti e assi, e come giù di falsa sagne, che qua è del paese, e dunque ci fatica mangia. Ah, disse la mamma, te l'hanno trovata la fatica allora, ah? E gli vissero felici e contenti, e noi non pime niente. Ci vuoi te conto un altro, metà e non darà altro. Grazie. Grazie. Grazie.